Amici del Piccole Magazine, alla selezione Emilia Romagna di Miss Drag Queen Italia, questa sera è successo qualcosa di inaspettato. Un pari merito al primo posto, mentre secondo posto, purtroppo scalato al terzo, la bellissima Natalia Blasch. Complimentissimi lo stesso perché davvero ti sei distinta e ci hai fatto divertire. Come ti senti? Grazie a tutti e ciao Piccole Magazine. Mi sento felice, felice di aver portato Natalia Blasch, felice di aver portato me stessa e questo è quello che conta, far divertire. Sono contenta che ti sei divertita. Assolutamente sì, la nostra Simona Sventura ci ha accompagnato in questa serata fantastica. Ti aspettavi questo inghippo però in senso positivo perché c'è stato un livello veramente alto? Allora, sono felice perché in realtà un pari merito rappresenta il fatto che comunque ai primi posti si sono classificate delle drag che hanno portato in scena delle cose belle e quindi sono super felice e orgogliosa di questo pari merito al primo posto ma sono anche super felice e orgogliosa di questo secondo posto perché la nostra Natalia veramente in pochissimo tempo ha iniziato a fare drag da quest'anno, anzi dall'anno scorso, fa drag da 6 o 7 mesi perché è stata una delle allievi della Draquin Academy e devo dire che ha avuto un glow up incredibile, sta crescendo di mese in mese, sta migliorando e sono sicura che entrerà nello staff, me lo sento perché è veramente brava, è umile, ha tutte le carte in regola per diventare una drag professionista e si impegna quindi io sono veramente felice, lei sarà comunque seconda classificata a Miss Dracone Emilia Romagna io le prometto che comunque realizzerò per lei la fascia della seconda classificata perché se lo merita e che vedevo di, intanto tu sei buona e non stai bene qua in mezzo perché mi fai sfigurare perché mi sento una vecchia carampana, quindi ecco, però detto ciò io spero che anche tu ti sia divertita assolutamente sì e in tutto ciò ricordiamo che comunque la nostra Natalia ha vinto la fascia benessere assolutamente sì perché sono bella dentro ma anche fuori come ti preparerai per i prossimi appuntamenti, pensi di rimetterti in sfida? allora per adesso vari progetti in corso, tra serate, spettacoli e sicuramente mi rimetterò in gioco presto e vediamo, anche un po' di relax e mare non farebbe male, magari a Torre del Lago assolutamente sì a supportare le altre Queen e poi comunque con Natalia abbiamo delle cosucce insomma in canna assolutamente Natalia ha vinto la fascia benessere che è stata offerta da un network, da un gruppo di persone che si occupa di benessere fisico e psicologico che ringraziamo perché ci hanno supportato, ci hanno fatto da sponsor e quindi li ringraziamo e vi invitiamo a seguirli su Instagram e su Facebook, network, salute e benessere seguiteli perché sono un gruppo di persone che lavora tantissimo con le persone LGBTQIA+, quindi veramente che cosa si può voler di più? Volete un massaggio? Chiamate loro, volete una pulizia del viso? Volete una crema? Volete un mental coach? Ci so tutti io mi sono affidata a loro, guardate che figa che sono uscita e direi una testimonial bellissima ancora complimenti Natalia Vlash per questo meritatissimo podio grazie Simona per averci accompagnato in questa bellissima serata e grazie entrambi per essere state con noi grazie a voi, ciao piccole magazine grazie a tutti